È stato pubblicato oggi pomeriggio un post nel quale si vedeva la parte iniziale di via di San Giovanni in Laterano. Al posto degli edifici raffigurati in quella foto, ora c'è il Ludus Magnus. La scoperta del Ludus avvenne nel 1937. In quell'anno il governatorato autorizzò la Cassa Nazionale Malattie Abetti al commercio a costruire la sua sede lì alla fine di via di San Giovanni e in fronte al Colosseo. Cominciarono a scavare ed emersero subito i primi resti del Ludus. Si bloccò tutto e cominciarono quindi gli scavi archeologici che andarono avanti per un po', portando alla luce il grosso dei muri che vediamo ancora oggi. Poi scoppiò la guerra e, ovviamente, si pensò a tutt'altro. Passano alcuni anni e, nel 1957, viene concesso al Monte dei Paschi di Siena la possibilità di costruire la sua sede là dove è tuttora. In cambio il MPS proseguì gli scavi del Ludus, ne effettuò restauri e conservazione e, ovviamente, scavò in tutta l'area che occupa adesso. E arriviamo alla foto che pubblico. Gli scavi terminarono nel 1961, quindi questa foto è tra il 1957 e il 1961. Siamo su via di San Giovanni in Laterano una cinquantina di metri dopo quella pubblicata oggi e sopra ricordata. Si intravede, sulla destra, una colonna. Era la facciata della chiesa di Santa Maria di Loreto, chiesa che fu eliminata nell'occasione. Fu poi costruita, lungo la fiancata dell'MPS una facciata posticcia, è di fronte al numero 64 di via di San Giovanni in Laterano, che in qualche maniera la riproduce. Sotto quella chiesa, però, come si vede furono trovati importanti mosaici che furono prelevati e portati all'interno dell'esattoria MPS. Questa foto, quindi riprende quel momento, quando furono portati alla luce, sono ancora senza protezione e, ovviamente, non ancora trasferiti.